Una notte da pirati, con giochi, animazione e tanto divertimento con degustazione di carne arrosto all'interno delle tegole, rigorosamente senza posate. Una serata all'insegna del divertimento, quella organizzata dal ristorante Pizzeria Bar Savini, incontrata a Mugno, a Ragusa. Le serate a tema sono tantissime perché ormai ci siamo imposti insieme a mia moglie, ad Adriani, a Noemi, alle mie figlie, che il programma del Savini va a tre mesi, infatti abbiamo fatto ottobre, novembre e dicembre, ora usciremo poi con gennaio, febbraio e marzo. Abbiamo delle serate a tema, tutti i venerdì, diverse uno dall'altro, sempre più particolare. Io dico sempre che il Savini è nato perché non è solo bar, ma è un luogo di aggregazione. E così di fatto è. Il venerdì, il sabato, la domenica, l'H24 che facciamo, diamo a tutto Ragusa la possibilità di poter passare anche la sera e la notte, anche nelle prime mattinate, all'alba, è qualcosa di diverso. Quindi con i cornetti caldi, con le trecce, con tutti i giochi societari nella sala è qua a disposizione. Che dire, le serate sono uno dietro l'altro, molte più belle, molte più particolari, ma soprattutto perché li facciamo diventare diverse uno dall'altro, personalizzandoli noi stessi. Non abbiamo nessuna ditta, nessuna agenzia che ci cura, ma bensì siamo noi stessi a programmare le serate e poi a trasformarle in quello che voi vedete. Non sono mai uguali, ma sono sempre diverse, con novità, con sorprese, con cose molto particolari che vanno al di là della quotidianità. Questo proprio per dare la possibilità a tutti di potersi tranquillamente rilassare dopo una settimana, dopo tanti giorni di lavoro, di passare una vera e propria serata alla spensieratezza. La serata particolare è perché intanto faremo karaoke durante la cena e poi si ballerà fino a tardi. Ci sarà metà serata la caccia al tesoro, quindi ci saranno delle squadre che parteciperanno a questa caccia al tesoro e ancora novità che ancora non si possono dire perché sono tutta una sorpresa. La cosa importante è che si balla fino a tardi. Savini è un punto di riferimento, un punto di incontro dove veramente si possono trascorrere delle bellissime serate. e il Savini è un bar, ristorante, pizzeria dove praticamente il venerdì e il sabato fa H24 quindi si può venire anche sul tardi e dopo che si finiscono le serate di cena, d'inverno si possono trascorrere proprio serate fino alla mattina. Quindi mattinate si possono fare qui al Savini. Savini è un bar, ristorante, pizzeria dove praticamente il venerdì. E ci vorrei venire, si vede là, a cui si va la gioventù. Ora, ora, sulle mani! Come si portano bene, questa vigna del vino, così sarà la donna, così sarà la donna. Come si portano bene, questa è una delle tante salate che facciamo qua al Savini. In questo caso abbiamo fatto la salata dei pirati, dove tutto il personale ha cercato di vestirsi da pirata. Il menù è prettamente piratesco, non abbiamo né posate né piatti, si mangerà con le mani. È un bel uomo a base di carne. Oltre a questo abbiamo fatto anche la salata araba, salata spagnola, salata orientale. È un momento di compagnia per stare insieme, è un momento per passare una salata diversa dalle altre, è un momento per staccare dalla settimana e per iniziare il fine settimana alla grande. Abbiamo pensato di fare questo gioco in modo da coinvolgere tutti i clienti che vengono abitualmente, anche quelli nuovi, in modo da attirare la gente per le altre serate che saranno fatte qua al Savini. In questo caso abbiamo fatto anche la salata dei pirati, dove tutto il personale ha cercato di fare questo gioco in modo da coinvolgere tutti i clienti che vengono abitualmente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.